buongiorno oggi vi faccio vedere come estrarre i semi da una cipolla questa cipolla rossa di trofea che se si lascia andare arriva al fiore che era che è questo che ora è seccata la pianta è morta la cipolla è questa io la metto su un tavolo per farvi vedere ecco questo quindi la cipolla che si estende e fa un fiore bianco che è questo da questi pallini vedete qui dentro ci sono i semi quindi vedete questi sono i semi dentro ce n'è circa due o tre di questo e anche questi che vedete sono i semi di cipolla semistrani.it